Ciao! Allora, eh sì, se vedete è sicuramente un background diverso perché sono nella casa che ormai sarà casa vecchia, ma al piano superiore, quindi uno dei pochi spazi che mi sono rimasti appunto durante questo trasloco. Sono qui per un lancio, sono qui per un lancio che aspettavo da tanto tempo. Tutti i miei lanci rappresentano quello che sono, rappresentano quello che faccio, quello che uso, le mie preferenze, mi rispecchiano totalmente. Sono tutti i prodotti, dal Lipmus che è il primo a questo, tutti i prodotti che assolutamente parlano di me, che ho voluto intensamente, che sono ovviamente cose in cui credo. Chi mi conosce, conosce anche la mia passione per gli integratori. Credo che li utilizzi da quando ho iniziato a usare la protezione solare, più o meno nel periodo è quello, quindi parliamo veramente di decenni. Quindi, li uso, non uso tantissimi integratori, però uso degli integratori specifici per la pelle, quelli ogni tanto uso altre cose, ovviamente quando la mia dieta era prettamente vegana usavo la vitamina D, la vitamina B12. Però, un leitmotiv della mia vita sono stati sempre gli integratori dedicati alla pelle e ai capelli. Ho sempre considerato la cura della pelle come un lavoro di gruppo, in cui c'è stata sempre la protezione solare, il fatto di non fumare, tra parentesi, non è mai tardi, soprattutto per la salute, ricordiamocelo, come anche la protezione solare, e sicuramente non è mai mancata, in quella che io considero la cura della mia pelle, non sono mai mancati gli integratori. Ecco perché sono felicissima di poter lanciare i miei integratori. Sono prodotti in laboratori italiani, quindi questa già per me è un sigillo di qualità ed è un laboratorio fantastico. I prodotti che fanno parte della linea sono due. Questo è il Beauty Potion Collagene e Acido Dialuronico. Questo invece è sempre Beauty Potion, ma specifico per hair and nails, quindi capelli ed unghie. Il collagene è una proteina che noi produciamo naturalmente e che si trova in abbondanza nel nostro corpo. Ha delle funzioni molto importanti e tra queste funzioni ha anche quella di mantenere la nostra pelle bella, giovane, soda, elastica. Ho sempre pensato che la cura della pelle dipendesse anche dall'interno, quindi non solo da quello che applichiamo sulla nostra pelle, ma anche da quello che mangiamo ovviamente, che è fondamentale, che è importantissimo e che può essere integrato da determinati integratori. Scusate il gioco di parole. Cosa succede però? Come tutte le cose buone e belle prima o poi finiscono. Già, pensate, lo so, ogni volta che io leggo dei libri a riguardo, oppure quando parlo con il laboratorio, quando parlo con gli esperti, quando sento questa cosa mi viene sempre un colpo al cuore. Pensate che già dai 25 anni la produzione di collagene, il di collagene inizia a declinare. Pensate io che ne ho 45. Diminuendo la sintesi di collagene, cosa succede? Succede che la nostra pelle inizia a perdere quel tono, quella tonicità, quell'elasticità, causando le famose rughe. Amiche di tutti, perché io dico sempre, non si possono assolutamente bloccare il fatto che le rughe arrivino, assolutamente no. Però noi possiamo rallentare, prevenire a volte, oppure semplicemente dare un aspetto migliore anche con le rughe. A me capita di vedere soprattutto delle modelle in età avanzata. La Musk, la mamma di Elon Musk, è una di queste modelle che io guardo sempre con ammirazione perché ha le rughe, perché è una signora di 70 anni e quindi, insomma, è assolutamente normale che le abbia. Però al tempo stesso ha una pelle così bella, quasi trasparente, tonica, che può essere un controsenso con le rughe. Però c'è proprio questo aspetto che mi dice tanto di come questa persona si è presa cura della sua pelle. Ecco perché è importante integrare e rafforzare le nostre scorte di collagene. Ma non tutti i collageni sono uguali. Troverete integratori che hanno diversi tipi di collagene. Il numero uno è quello, è proprio quello indicato perfetto perché si va ad occupare proprio della nostra pelle. Perché il numero uno è quello che viene, il numero uno, il tipo uno, è quello che si trova in abbondanza. È al primo posto tra tutti i collageni che si trovano all'interno del nostro organismo, è al primo posto. Il collagene marino, che è questo che troverete all'interno, è il migliore rispetto al collagene animale. Perché è la forma più pura, più ricca e anche quella più facile da digerire. Da dove nasce l'assunzione del collagene? L'assunzione del collagene in realtà parte dal Giappone. Sappiamo tutti quanto loro siano quasi ossessionati dalla cura della pelle, le donne giapponesi. Effettivamente hanno una bellissima pelle e una bellissima pelle a lungo. Io, giapponesi ma anche coreani, io ho la mamma della mia amica Enji, che ha, credo che abbia superato i 70 anni, ma ha una pelle meravigliosa. Quindi credo che, sì la genetica, ma credo che conti moltissimo quello che loro fanno. Sono stati proprio loro a trovare un metodo che permettesse al nostro corpo di assorbire meglio il collagene. Il risultato di questo metodo è il collagene idrolizzato. I peptidi importantissimi, nati appunto da questo processo, vengono assorbiti immediatamente nel nostro sistema circolatorio. E ovviamente non potevano non avere il collagene idrolizzato nelle Beauty Potion. Perché ho scelto il collagene in polvere? La versione in polvere era quella che mi dava una concentrazione, si vede che sono appassionata, una concentrazione più grande in appunto un bicchiere d'acqua in cui io poi andrò a sciogliere la bustina. La versione in polvere viene assorbita meglio dal nostro corpo e il collagene va ad occuparsi di quello che è l'idratazione, lo spessore, la bellezza della nostra pelle. È stato dimostrato che il collagene in polvere funziona ancora meglio quando associato ad altri ingredienti. L'aceo ialuronico che è una molecola importantissima anche questa per il nostro corpo, la cui mancanza causa appunto è una delle cause dell'invecchiamento cutaneo. Sono anche presenti le vitamine A, C ed E che sono delle vitamine importantissime per la nostra pelle, per la salute e la bellezza della nostra pelle. Hanno un'azione antinfiammatoria, antiossidante, rigenerante, protettiva. Il collagene marino di solito è sì il migliore, ma spesso cosa succede? Ha un retrogusto molto 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 forte, che è veramente difficile. Devi trovare le formule giuste proprio per fare in modo che abbia un sapore piacevole, che è veramente complicato e ve lo dice una che ha provato tantissime formule. Questa, la Beauty Potion, ha un gusto all'arancia, ma è anche molto delicato. Non troverete un gusto all'arancia pesante. Utilizzo, allora, all'interno troverete 30 bustine, quindi vi dureranno un mese, una bustina al giorno. La mia assunzione preferita è al mattino, prima a stomaco vuoto, quindi prima di fare colazione. Di solito anche una mezz'oretta prima di fare colazione, sciolto in mezzo bicchiere d'acqua, preferibilmente fredda, io la preferisco fredda, trovo che sia più piacevole. Ovviamente mescolate bene con un cucchiaio per fare sciogliere bene il prodotto e poi, insomma, basta berlo. Altra cosa importante, non volevo che la Beauty Potion avesse dolcificanti artificiali. Infatti contiene stevia, insomma, che conosciamo tutti. Io lo prendo normalmente quando prendo il tè o quando zucchero il caffè, scelgo sempre stevia, quindi era importante che non avesse zuccheri aggiunti, ma avesse solamente, fosse dolcificato solamente con lo stevia. E adesso parliamo di capelli. Questo è per unghie e capelli. Io non porto le unghie molto lunghe, quindi l'ho sempre preso principalmente per i capelli. Però ovviamente, soprattutto se avete delle unghie molto fragili, oppure se vi piacciono le unghie un po' più lunghe, che io trovo molto belle, ma proprio non fanno per me, non riesco a fare niente con le unghie lunghe. Il Beauty Potion, capelli ed unghie, si occupa appunto, si occupa dall'interno di rafforzare e proteggere capelli ed unghie grazie all'ingrediente principale, l'ingrediente più importante, che è il bambù. Il bambù è un preziosissimo alleato per la nostra bellezza. Non sapevo, ma ho scoperto che è la pianta che cresce più velocemente al mondo. Ma non solo cresce velocemente, è anche una pianta incredibilmente flessibile e resistente. Altra informazione molto importante è che il bambù contiene tanta silica, ben il 70%. La silica è un minerale importantissimo, che come il collagene, come l'acido ialuronico, una volta che inizia a diminuire la produzione, cosa succede? Va ad influenzare negativamente i nostri capelli, le nostre unghie. Perché è proprio la silica che si occupa di farli crescere, proteggerli, farli crescere velocemente e mantenerli forti e sani. Quando ho iniziato a provarli, a testarli, questa formula è stata quella che per me ha funzionato maggiormente. Non solo proprio come qualità dei capelli, ma anche proprio come morbidezza, come lucentezza. Una qualità, una migliore qualità in generale dei miei capelli. All'interno ci sono 60 compresse, potete prenderne anche una al giorno, a seconda appunto delle vostre esigenze, necessità. Quindi una o due con un bel bicchiere d'acqua, possibilmente dopo un pasto. Mentre il collagene io vi consiglio di prenderlo al mattino a stomaco vuoto, queste proprio per la formulazione io vi consiglio di prenderle dopo un pasto, che può essere... di solito preferisco... Quello che faccio è prendere queste a colazione e queste di solito le prendo dopo pranzo. Io adoro le pillole perché sono rosa, non so se rende l'idea, sono rosa. Il Beauty Potion contiene anche tanti altri ingredienti, proprio tutti che vanno ad agire in unisono con il bambù. Biotina, importantissima la biotina, zinco, rame, selenio, estratti vegetali di miglio e di maqui. Me li sono ricordati entrambi, faccio sempre difficoltà a ricordarli entrambi. E questi sono appunto tutti ingredienti che insieme vanno proprio a lavorare intensamente per la salute e la bellezza di unghie e capelli. Altra cosa importantissima, possono essere assolutamente presi insieme, non c'è nessuna controindicazione, anche se io per me è fondamentale dirvi questa cosa, soprattutto se siete incinte, se avete delle allergie particolari. Non solo andate a leggere bene tutti gli ingredienti per sicurezza, ma è fondamentale chiedere sempre al vostro medico, non mi stancherò mai di dirlo assolutamente. Ed è tutto, quindi non vedo l'ora di avere il vostro feedback per ciò che riguarda questi integratori e come sempre vi ringrazio e vi mando un grandissimo bacio. Ciao!